Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 15 dove si è verificato un incidente al chilometro 76 tra Ulla e Pontremoli in direzione Parma. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola accode in entrambe le direzioni per un senso unico alternato tra Porto di Mezzo e Le Sieci. Sulla statale 1 Aurelia chiusura di una corsia per lavori tra Cecina Centro e Cecina Sud in direzione Sud. Spostandoci sulla FIPILI possibili disagi per personale sulla strada tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Attenzione anche al personale sulla strada per lavori segnalato tra Livorno Porto e Livorno Aurelia in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!